Sono la dottoressa Emma Collins. Qui a Little Happy, i residenti sono stati tra le prime vittime dell'innalzamento del livello del mare. La natura, più la minacciamo... Emma, c'è uno squaboreo! ...più forte reagisce. Credo si stiano adattando al cambiamento climatico e questo li rende aggressivi verso qualsiasi cosa. Abbiamo un problema più urgente. Cosa? Non a tutti è concesso essere scuri. In anteprima assoluta, il nuovo capitolo della saga, Blue Profondo 3. Venerdì 15 gennaio, su Premium Cinema 1.